Amici, oggi ci gettiamo nuovamente nelle Murder Mystery, una modalità che vi è piaciuta tantissimo, il primo episodio vi invito ad andarlo a vedere se ancora non l'avete fatto e quindi oggi amici speriamo di far bene come abbiamo fatto nel primo episodio, vi avete dato molti consigli, li metterò in pratica ma adesso iniziamo, non perdiamoci troppo in chiacchiere, c'è un assassino da catturare o degli innocenti da uccidere Allora, intanto che cerco una partita nelle Murder Mystery, iniziamo con quella classica scrivetemi altre modalità carine che ci possono essere o che posso trovare in questo server per ora sono in quella iPixel, magari ci sono anche altri server, non lo so, fatemi sapere voi fatto sta che scrivetemi in caso altre modalità, ci sono le Build Battle ma per ora sono ancora un po' nabbo quindi vediamo, la chance di fare il Detective è all'8%, quindi innocente, perfetto, mi sembra corretta come cosa Nooo, è vero, mi sono dimenticato di fare la skin, oh ma, sapete che è tipo una cosa come 5 giorni che dico ok, mi metto a fare la skin e poi non la faccio, vabbè, dopo mi devo davvero mettere a fare la skin quindi qua cosa si può comprare? Magical Ice Cream, quanto ci vorrebbe un gelatino in questo momento caldo e arido allora, sta skin mi sembra molto sospetta, quel non so che di sospetto, quindi la insegui pensavo avesse in mano qualcosa di strano quindi il nostro obiettivo è, a parte salvarci la vita, liberare la guardia però, sapete che forse forse è meglio con due assassini? Boh, secondo me è più divertente dai, allora dopo ci facciamo quella con due assassini perché l'altra volta vi è piaciuta molto e sinceramente anche a me è piaciuta di più salve signor, lei chi è? Lei mi sembra un po' particolarino, eh? Non vorrei dire ma lei mi sembra un po' un po' un detectivino oh, che è successo? Si è teletrasportato? No, no, tu non me la racconti giusta ragazzo, vieni qui, venga qui signore, lei non me la racconta giusta a parte che è una signorina, guarda, guarda come scatta il classico scatto d'assassino, guarda o il classico scatto del lag, dipende da che punto di vista lo vedete oh, per ora, ah, otto innocenti, eh, io pensavo che l'assassino non stesse facendo mambassa e invece, ehi Steve, come butta? Tutto bene? Perché c'è un cadavere e tu non rimani scioccato? ehi, 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 quella lì lagga un po' troppo e lei è l'assassina, haha, vedete che lei è l'assassina? eh sì, no, scappa, eh no, lei sa che io so, io so che lei sa, che tutti sappiamo che so che se sta e anche voi sapete ragazzi, siete in pericolo scappa, l'assassina è la signorina, l'assassina è la signorina, l'assassina è la signorina allora, text, killer lady, lo capiranno, non lo capiranno, non lo so, io l'ho capito, speriamo che abbia vinto, grazie a me, non lo sapremo mai comunque, io guadagno sempre l'esperienza, intanto scrivo anche GG perché non fa mai male guadagno sempre l'esperienza, ma non so cosa serve, so che si possono prendere dei premi, ma non so perché non lo so, non lo so, non lo so, fatto sta che siamo stati innocenti in questo momento mi preme fare l'assassino e il detective, non so perché però proprio voglia di fare il detective oggi, cioè proprio me la sento sarà che ho guardato un film di Sherlock Holmes per allenarmi sì, quello con Robert Downey Jr., per chi non l'avesse visto è andato a recuperarlo, stupendo ma vabbè, non c'entra più di tanto, 9% di chance e invece sempre innocente che devo stare zitto, devo stare zitto allora, chi potrebbe essere l'assassino? L'assassino di solito è quello più innocente come abbiamo visto prima, era la signorina, quindi potrebbe essere la persona più innocente o forse no, beh, tu non mi sembri assolutamente innocente e quindi, vedi di starmi lontano, grazie oh, c'è già un morto, ma sapete che forse è forse la signorina? il mio istinto mi suggerisce che era lei addio fratello, sei stato un grande soldato è pieno di cadaveri oh, buon lavoro, you just missed the murder stiamo calmi qui perché c'è troppa tensione nell'aria oh, questo assassino sta facendo genocidi, eh non vorrei dire, ma secondo me è la tipa, quindi, per non ripetermi no, no siamo morti, siamo morti, siamo mortissimi siamo mortissimi, è lei, è lei è stra lei no eh, lo sapevi lo sapevo, mi ha tirato un coltello nella schiena che mamma mia, lo sento per tre giorni no, ci credo mai play again, right click dai, lo sapevo, ecco se fossimo stati i detective ora l'avremmo scoperto e invece no, e invece no dobbiamo essere degli innocenti perché sto parlando così? perché stavo parlando così? non lo so dai, fatemi fare il detective dai, ma basta oddio cioè, che sfortuna oh, quanta sfortuna allora, press button to exchange gold for valuables oh, vai ma dai, mi ha dato la blindness ma non ci credo mi ha fregato ok, siamo 1-0 per te ma torna oh mamma mia, Steve mamma mia, Steve mi hai fatto cacchellare addosso Steve, mi hai fatto cacchettare addosso io te lo dico sì, ma quanto dura questa blindness? 62 giorni? o possiamo tornare in vita? vabbè, non lo so aspetterò così il momento che mi uccidi oh, oh, oh oh, right, all right, all right ma questo è il tipo di prima ma sal... e vabbè, cosa scappi? ok, va bene ho capito che magari non posso non posso essere il più simpatico del mondo ma non è che ora quitti solo perché ti saluto, eh ma che gente, signori ma che gente stiamo scherziamo per caso? ma stiamo scherziamo? vabbè, peggio per lui fatto sta che siamo in 13 in vita e il time left 6 minuti no, sono 3 minuti non so, oddio perché ho letto 6 minuti vabbè un arco è stato droppato tra l'altro oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh, oh oh, oh, oh c'è un cadavere ci sono molti cadavere oh, mio Dio, è pieno di cadavere no, amici sono in un cimitero no ok, la devo smettere allora, abbiamo 7 di gold cosa potremmo farci con 7 di gold oh my gold oh, questo è dove si possono fare i pesi avete presente in palestra quello tu, tu, tu beh, sì, quello lì no, dai stavo facendo vedere come si fanno i pesi in palestra no, che io ci vada ma dai play again ora non voglio parlare non voglio parlare perché porta sfortuna quindi starò zitto e qualche succede, succeda allora, dato che ero l'innocente ho detto no, non lo voglio fare ancora l'innocente sono tornato un attimo nel menu mystery vault che cos'è? vai oh, la sto aprendo attenzione colpo di scena così, totalmente a caso cosa ho trovato? mister you found loot one common 5 hat e 28 pet height oh, abbiamo ancora due available vai, li apriamo per forza vai, open tu, 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 tu tu, 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 tu dai, dammi roba buona dammi roba buona one common wink emote 28 cosa sono i pet items scrivetelo nei commenti va, che voi di sicuro lo sapete però bene abbiamo tre ceste dai, dammi una cosa leggendaria l'altra volta avevo trovato una cosa viola common bumblebee suit suit boots ah aspettate un attimo va vabbè, diceva a parte il fatto che voglio andare a fare un infection che non so cosa sia la proviamo sostanzialmente l'altra volta però mi si era corrotto il file vabbè quindi sembra che sia una balla ma in realtà è vero avevo trovato una cosa viola mi sa un particellare tipo, non so, se ve l'ho fatto vedere alla fine non mi ricordo fatto stare che avevo trovato un particellare carino era viola vabbè non interessava a nessuno però volevo dirlo, ok? volevo dirlo intanto iniziamo come funziona il infection non lo so ma io sto amici 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 come funziona il infection e siamo sempre sopravvi oh ma non siamo mai cattivi della situazione e sostanzialmente dobbiamo ammazzare il tipo infetto ok no è lui il tipo infetto ok 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 ho capito ho capito ho capito ho capito no come sono morto no non ho capito e ora siamo infettati ah 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 ok ho capito ok alright 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 ok vabbè fa niente vinceremo da anche infetti venghi venghi un attimo si avvicini oh yeah stiamo facendo strage ne abbiamo ucciso solo uno ma vabbè è il primo di tanti lui è un mio socio guarda che infami stop that no dai che infami quei due dai non si può fare una cosa del genere oh quanto stanno eh ho capito no sata sata tatatatatata ok è morto no come fatta morire mi hanno ucciso vabbè comunque ho capito nuova partita praticamente praticamente tu hai l'arco e devi ammazzare gli altri se muori respawni finché non muore il king uh si è l'assassino eh allora ve lo faccio vedere per forza dai per forza siamo gli assassini che fai master te ne privi eh no che non te ne privi allora quindi signori concludiamo stavo cadendo con essendo più che con l'assassino cioè ora non vorrei fare accuse infondate però ultimamente in questo video mi sembra che tutte le signorine siano state assassine oppure fatto rima signorina assassina sì oppure fatto rima sata ucciso perfetto e forse forse era il come si chiama vabbè avete capito qui è pieno di gente diciamo che non possiamo farci vedere alla luce del sole ci ha sgamati ci ha sgamati ci ha visti in pieno proprio sata ucciso ok dai signori siamo carichi io e la tipa siamo stracarichi ha detto sata ucciso un altro ok questo qui è pronto per farsi uccidere ok era il tipo comunque preferisco di gran lunga andargli addosso con la spada di cattiveria e alquanta arroganza che cosa volevi fare cosa volevi fare che abbiamo 6 kill la nostra socia è stata uccisa what what siamo da soli siamo da soli all right all right ho capito devo uccidere 11 persone da solo compito arduo però gli lancerò il colt ok no 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 scusa 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 non te lo lancio più non te lo lancio più ucciso e non sono stato io giuro che non sono stato io no 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 it's one we go scappa 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 no mi ha speso no l'ho ciccato non ci credo l'ho sfiorato e quindi lui mi ha tirato una freccia nel cuore gg signori gg eh ma la mia amica è morta subito vabbè quindi signori queste erano nuovamente le murder mystery io scordo al server quit game per sicurezza mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video e oggi ho i capelli particolarmente scrausi io vi ringrazio per la visione vi invito a scrivermi altri giochini minigames interessanti da fare in questi giorni o che portare o che volete vedere vabbè avete capito nuovamente vi ringrazio vi do appuntamento domani alla solitore ovvero al 2.45 con un nuovo video con un nuovo video non so se l'ho detto bene ma vabbè avete capito ciao